Ritorna la Sagra dei Pipi e Patati a Chiaravalle. Grande successo nella cittadina delle Preserre per il ritorno della Sagra dei Pipi e Patati organizzata dall'Associazione Agorà del Presidente Cirillo nell'ambito della manifestazione che si stanno svolgendo a Chiaravalle. Una serata allietata con il concerto del gruppo Icerseio. Ne vediamo uno stralcio. Buonasera a Chiaravalle! Benvenuti! Grazie! Buonasera a Chiaravalle! Buonasera a Chiaravalle! Un mondo dove tutto è nuovo è Stamore amore santo mona Nella testa è mia sull'upperò Per chi mancume mi dice anche un po' Siamo chi sova, c'è la sua figlia a tia Suppa terra si esiti con pia E per ora data c'è la sua magra Que si quiere, che si compatila Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.